Due note nuove. Perché questo titolo? Due note nuove rispetto alla pagina precedente. Nella prima pagina noi avevamo soltanto tre note a disposizione, SI, DO, RE. Stavolta le note sono cinque, perché la mano destra ha a disposizione DO, RE, MI e la mano sinistra DO, SI, LA. La posizione delle due mani è la stessa, con i due pollici insieme sul DO centrale e le altre dita ognuna con il proprio tasto. Anche in questo caso noi dobbiamo contare fino a 4. Il numero in alto all'inizio del rigo musicale è un 4, quindi noi contiamo nella nostra mente fino a 4. Il primo rigo e il secondo rigo sono perfettamente uguali. Nella prima parte suona la destra, nella seconda parte suona la sinistra, nel primo e nel secondo, che si ripete identico. Suono di seguito primo e secondo rigo. Sono quattro battute per ciascun rigo. Nel primo rigo io conterò ad alta voce, nel secondo rigo suonerò ma contando nella mia mente. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bene, io un po' per volta ho abbassato la mia voce finché è scomparsa del tutto, ma ho continuato a contare nella mia mente e il brano, infatti, è andato avanti sempre con la stessa velocità, dall'inizio alla fine.